Qui al tecnico professionale Orafi, Margaritone, il preside Roberto Santi e Gabriele Veneri devono raccontare una bella storia e hanno accolto anche una grande sfida con Imola. Sì, sì, è un progetto, questo con la città di Imola, che ripercorre altri progetti promossi da Gabriele e dalla sua impresa, la SEMA, per quanto riguarda simboli e iconi della città di Arezzo, prima. Ora, Imola è già la seconda volta, l'altra volta noi facciamo un'iniziativa, partecipiamo con i nostri ragazzi, con i nostri studenti, a un'iniziativa su Caterina Sforza. E questa volta? Questa volta sarà la stessa cosa, forse ancora più importante, addirittura la città di Imola e l'associazione che la organizza, Imola Experience, predispone dei pullman gratuiti per i nostri studenti Orafi, affinché possano visitare la città il giorno in cui ci sarà la premiazione. Ma a me la cosa che mi entusiasma di più è che siamo al secondo giro e non li abbiamo cercati noi, quindi da Imola questa mattina sono venuti in cinque per presentare questo progetto, che ci hanno fortemente sollecitato di voler fare nuovamente con la scuola Orafi di Arezzo, quindi vuol dire che la prima è stata un grande successo, la seconda sarà sicuramente ancora migliore. La diocesi ci ha chiesto espressamente di coinvolgervi per realizzare appunto dei manufatti molto importanti a ricordare appunto un evento importante della diocesi di Imola. Grazie all'aiuto di alcuni amici di creare anche una rievocazione storica, che ci sono le giornate di Caterina, al quale invitiamo i ragazzi dell'istituto Orafo, perché li invitiamo all'inaugurazione della mostra con quello che realizzeranno loro e chiaramente invitiamo anche tutti gli aretini.